risolvere stanco che ci si stava liberando Framini Maicon cerca la profondità, Edo a campo aperto prova ad andare Toro, recupera Gattuso Edo accelera nel più veloce il trenare di rigore Edo taglia fuori Gattuso, fallo! Destruzione Calcio di rigore giallo Fallonetto Questo è destruzione Farino Se tu dai calcio di rigore andava verso la porta Giustamente i giocatori dell'Inter secondo me reclamano E che volevano anche per occasione la gola Cosa ha visto questa sinesta che stava dentro nocchera? Diego! Minuto! 2-0! 1-2, pazzesco dell'Inter! Sì, qui ha tirato centrale forte Uno da fare pastorale che è uno che di rigore li para Però insomma, adesso l'Inter ha preso fiducia Doveva solamente bloccare la situazione della squadra di Mourinho In vantaggio ci sono aperti gli spazi E adesso veramente Eto e Milito possono fare male Permettimi di dire una cosa L'occasione di Genova-Roma Di domenica della partita scorsa E questa Mi fa pensare che anche sulla chiara occasione da gola Si vada verso Però non ne ho parlato con Collina Si vada verso un'interpretazione più europea In Europa perché venga espruzzo un gioco Un' più adulta scusa Ci r auspondendo Doveva La